Un benvenuto a tutti signori belli in questo simpatico video di Stronghold Crusader 2 Fatto solo ed esclusivamente per mostrarvi più che altro il DLC simpatico Sul maiale dovrebbe essere la principessa che aggiornando il gioco col codice Se lo compatte su Steam è una cosa automatica, se invece vi inviano il codice e lo dovete inserire da Steam Vi compare qui in basso questa cosa che sto facendo muovere col mouse La campagna che io adesso non ho ancora fatto Per la principessa del maiale in 7 simpatiche puntate Io adesso non sto a farla perché diventerebbe lungo Vi faccio soltanto vedere un attimo lo stile che Da parte quello degli altri giocatori che ormai gli appassionati della saga sapranno già Hanno messo due tipi nuovi di costruzione del castello Ho sbagliato, non era questo No, 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 no Dunque, devo mettere il maiale La principessa Eh sì, lasciamoci anche il lupo Eh, squadra 3 Eh, ok Me li metto assieme Così non ci sono troppi problemi Eh, dunque Una mappa Una mappa Una mappa Una mappa Una mappa Random Che sia bella grossa Così fanno Eccolo Tipo questa Dunque io sono quello No Tu Tu Che palle Tu Ok Allora, dunque Io mi metterò Penso Se mi fa trascinare I pezzi Eh, no Scusi Che, che mi ho fatto trascinare No, eh Perché non mi fa spostare i cosi? Eh, dunque Vediamo un po' Non mi fa spostare I cosi Perché? Allora No Mi riesce Aspetta, eh Non mi fa spostare I castelli Non capisco il perché Vuoi dire che sono Fissi così? Non me li fa spostare? Una volta si potevano spostare Che io mi ricordo Eh Pazzia Questa non è pazzia Questa è sparta Opzione avanzate? No Chiudi Vediamo così No Ok, vabbè Non mi fa spostare i castelli Non so proprio quale motivo Comunque Eh, dicevamo Spero che il lupo Non ci venga troppo A rompere le balle Ma si picchi con il maiale E la principessa Sinceramente Così almeno vi faccio un attimo Vedere i castelli Come si fa Come li fanno loro Eh Allora Dunque Aspettiamo un attimo Che carica Dai Ok Allora Tanto è una cosa Rapida Non sto neanche a fare Le cose Fatte per bene Faccio un po' Diciamo A cazzo di cane Detto proprio fra noi Eh Il granaio lo metterò Qui Dunque Aspetta Mettiamoci Non si possono mettere I meletti Ok Tipo uno Due E poi facciamo Tipo Uno Mazzati Sì In distese erbose Tua sorella Non so se qualcuno Te l'ha mai detto Una qui E l'altra qui Perché non è sola Di sese erbose Qua Ti stai sulle balle Sì Qua ti stai sulle balle Vabbè Stai qua Così non lo pede Dunque Facciamo un attimo Anche due pezzi di legna Giusto da Giusto da per Legno 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 Qua Qua Sì Rischiamo Forse No Non rischiamo più di tanto Perché il coso è lì Comunque Allora Dunque Io ho la mia Microeconomia Che non mi Non mi interessa L'ho fatta Dunque Allora Guardiamo come fanno I castelli I nuovi Le nuove intelligenze artificiali Dunque Questa simpatica Principe È la principessa Quella verde Vero È la principessa Sì Ok Quella verde È la principessa Ok Me l'ha fatta vedere Anche adesso Dunque La formula del castello È tendenzialmente Sul Rotondo Ma Siamo più un ovale Perché ha due lati Abbastanza Tendenti al dritto E due curvette Sta mettendo Cosa vuoi? Sì Dopo te li mando Dunque Come potete vedere Sta mettendo Le torri Cioè Ne ho messo uno Cosa vuoi? Vabbè Dopo te li mando Dunque La principessa Beh Oltre alla forma Mette le torri Qua Presumo Che ne metta Anche delle altre In sta zona E costruisce Praticamente Quasi Tutto Fuori Cioè È molto A contatto Con il lupo Vabbè Avrà Ci sarà qualche Difficoltà Per vedere Bene Come si lupa Il castello Invece Il nostro Simpatico Maialino Ha delle mura Particolarmente Spesse Sì Ha delle mura Fa le mura Spesse Come Sinceramente Faccio Spesse volte Anch'io Scusate Il gioco di parole E lui Butta Tutto fuori Cioè Dentro Ha soltanto La caserma E Cos'è questo? La fuccina Che gli fa Le mazze E Cos'è questa? Sarà la Cosa? Le balestre Le mazze Le balestre Da dentro E basta Tutto il resto Lui c'era fuori Bene E ha questi Quattro Mega torrioni Invece Il lupo Lo conosciamo già Fa questi castelli Un po' strani Che però Sono abbastanza Tendenzialmente Inespugnabili Perché Poi più avanti Avrà un bordello Di truppe Qua sulla Sulla Sulle mura E sulle quattro torri Mi sembra che metta anche Una quinta E una sesta torre Il lupo Se non mi sbaglio Però Non mi ricordo Comunque Adesso c'è un attimo Incasinata Qui la La situazione Perché Sta già attaccando La principessa E quindi Lei non riesce A svilupparsi Allora Voi andate lì Ho paura Che mi sa Che mi dovrò Prodigare Per aiutarli Non ci sono abbastanza Lavoratori Sì Dopo il lavoratore Te li metto Non scattarmi Le scocones Poi Cosa che mi serve Cosa mi serve Una Una sottospecie Di armeria Una Pseudo Caserma Che metterò Qui in modo Molto randomico Mettiamo anche La postazione Di mercenari Così da Vedere un attimo Come Si può fare Qualcosa di utile Qui mettiamo Otto lavoratori Sì La principessa Effettivamente È un po' Nelle canne Adesso perché C'è il lupo Di fianco Vediamo se Cosa voleva La principessa La principessa Voleva No Il Maiale Un messaggio Dalla principessa Il mio assedio Comincerà a breve Cavaliere Augurato Buona fortuna Dunque Lei sta facendo Quello Cos'è che mi aveva Chiesto La principessa La principessa Di baviera 50 di pietra Ce li abbiamo Se Un messaggio Dalla principessa Molte grazie E il maiale Voleva 50 di legna Già che ce l'ho Un messaggio dal maiale Ho ricevuto la roba Che hai mandato Ok Dunque Vediamo un po' Eh la principessa È un po' Nelle canne Comunque ha messo Un'altra torre qua La principessa Per adesso Bisogna un attimo Vedere Eh purtroppo Qua essendo Essendo così Attaccata al lupo Non Non si riesce Ad aiutarla Principessa Un messaggio dal maiale Non preoccuparti Polletto Il maialino Si prenderà cura di te Vabbè Contento te Il maiale invece Come ha messo Ha messo benissimo Un messaggio dal maiale Perché Ho bisogno di beni Eh sì Hai bisogno di beni Poi te li manderò Eh Cosa vuoi Ah vuole il legname Eh La principessa Vuole legna Sì Te la posso mandare Grazie Troppo gentile Eh dunque Il maiale Ok Il maiale si sta muovendo Così rompe un po' Le balle anche Al Al lupo Molte grazie Per i vostri beni Mio lord Prego Non c'è problema Eh sì Ah ecco La principessa Sta sviluppando Altre torri È un Sì È una specie di Ovale Però è un ovale Un po' strano Perché alcune torri Le tiene a filo mura Altre invece Le mette un po' in fuori Sì Non me ne frega Di essere il secondo lord Non mi interessa Sto facendo vedere Altre cose E Ebbene Adesso aspettiamo Solo quei due minuti In più Per vedere come Va avanti Comunque Il maiale Ormai è Belle che blindato Dubito che Qualcuno riesca A sfondargli Il castello Ha poche truppe Effettivamente Però Penso che più avanti Ne produrrà un po' di più Invece Il Il lupo Sappiamo già Come è fatto Sì Vedete Mette le torri Queste qua grosse Circondate da queste qua Un po' più piccole Ah ecco La principessa Mette le torri grosse Qua ai lati Interessante Molto interessante C'è qualcosa Che posso fare Non penso Andiamo un po' Non so Facciamo un po' di frecce Giusto per Abbiamo bisogno Di legname Eh Il legname Poi arriverà Andate su Cosa posso fare Arcieri 20 archi Fico Però ho solo Una città Chi se ne frega In modo molto randomico Lo metteremo qua Oh che palle Adesso arriva Comunque Dicevamo Sì Dobbiamo solo aspettare Qualche minuto Perché c'è la principessa Che è un po' Nelle canne Perché purtroppo È troppo vicino al lupo E quindi C'è il lupo Che gli disturba Un po' l'economia Ecco Quindi non riesce Tanto A sviluppare Il maiale Ormai è a posto Non possiamo anche Non considerarlo più Perché Il maiale Ha il suo castello Quadrato Costruisce Tutto fuori E dentro Tiene solo due cose Per le armi E basta La principessa Invece all'interno Cos'è che ha Il pozzo d'acqua La caserma Cos'è Archi questi No Bottega delle lance Ah Ha molti lancieri Fa molte lance La principessa Questa cos'è Bottega delle lance Bottega del fabbro E La No Non la rocca Questo qua cos'è La bottega delle armi Ok Quindi Lei all'interno Si tiene Tipo Le Le armature In pietra Si è armature in pietra Buonanotte Le armature E le spade O quello che produce Che però non riusciamo a vedere Come siamo sotto attacco Ma che palle Uff Come cazzo ha fatto a passare Ehm Casetta Dammi una casetta Qua Rapido Adesso ovviamente Il simpatico lupo Verrà a romperci le scatole a noi Perché Siamo Tendenzialmente Più deboli Eh si I popolani Arriveranno Ehm Però si Ah no Qua vogliono comunque I popolani Ammazzati Arcieri Prepararsi Ai bastioni Vai sui bastioni Sì Sire Andate anche voi Ehm Spero che voi Moriate presto Perché Se no mi rompete Il buco del culo Anche Ecco Adesso mi tirerà giù Il fabbro Un messaggio dal maiale Ho bisogno di beni Eh bisogno di beni Ma io Mi sto Me ne sto prendendo Nello stoppino adesso Quindi Tutti morti Ok Eh non lo so Se posso Risparmiarti i beni Sono nelle canne Un attimo Anch'io Ehm No Spostiamocelo Già di qua Allora Oddio Stanno di nuovo arrivando Dobbiamo prendere Delle misure cautelari Tipo queste Perfetto Quanti archi ho ancora Che non li vedo Otto archi Bene Per tamponare Sti due Spadaccini che arrivano Per il momento Bastano Ah ecco Finalmente La principessa Si è Tra virgolette Svegliata Allora Ha un Tanta roba Allora Mette le due torri Giganti qua Poi tutta circondata Torri piccole E Sinceramente Questa ballista Non so se È una cosa Voluta O meno Perché ho paura Che l'abbia messa Apposta Per il Per il lupo Ehm No Di qua ha messo Un mangono Quindi presumo Che sia nel suo Come intelligenza Artificiale Sia nel suo Stile di gioco Presumo che poi Metterà anche qualcosa Sugli altri due Angoli Per modo di dire Del suo castello Io invece Me la sto andando Me la sto viaggiando Per i fatti miei Senza un ma Senza un perché Ma Tu cosa fai qua da solo Vai su Bene 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 Ce la stiamo cavando Amichevolmente bene Non mi interessa Più di tanto Continuare questa Partita Perché intanto Era solo per farvi vedere Come i vari personaggi Costruiscono I vari castelli Ehm Ah la principessa Ha anche Il Questi qua Anche la principessa Usa la postazione Di mercenari Cosa che invece Il lupo Non usa E neanche il maiale Mi sembra No Quindi la principessa È tipo noi Che può usare Entrambe le Entrambe le I tipi Diciamo Di reclutamento Ecco Ehm Comunque Un messaggio dal maiale Sì? Dica? Non preoccuparti Polletto Maialino si prenderà Cura di te Sì Non riuscire a te Tra i coglioni Ehm Comunque dicevamo Ehm Il metodo Più o meno Di costruzione È questo L'intelligenza artificiale Sembra A parte Che ogni due Per tre Chiedono Dei beni L'intelligenza artificiale Sembra essere Abbastanza degna Di nota Perché Sono comunque Dei castelli Abbastanza Complicati Anche se sono Quasi prefabbricati Però Diciamo che non è semplice Costruire questi castelli Qua Una volta L'intelligenza artificiale Era un po' più Scrausa Ecco Ehm Comunque Ehm Questo qui È il simpatico DLC Che ci ha Ehm Tra le virgolette Ehm Ehm Come si può dire Ho regalato La Fireflies Studios Ehm E Basta Mi distraggo Sì Buona fortuna E intanto Poi la partita Non la finisco Ehm Comunque Questo qua Il DLC Del maiale Della principessa Ehm E' abbastanza Carino E coccoloso Come si suol dire In termini tecnico Ehm Io sono qua Isolato Come una merda Che me la sto Altamente grattando Ehm Niente Vi Saluto Da questo simpatico Da questo simpatico DLC Ehm Della Firefly Studios Che ha fatto Che ha introdotto Questi due personaggi Più che altro Il maiale Che mancava Dallo Stronghold Storico Sì Dopo te li mando Ehm Un video Possibile Plausibile Eccetera eccetera Ringraziamo ancora La nostra simpatica Amica Anche la nostra simpatica Casa produttrice Firefly Studios Ehm Tutti gli appassionati Del Del genere Strongholdiano Se così si può Definire Ehm Un saluto a tutti E Alla prossima Ehm